Il sistema ha fallito. Guarda cosa sta succedendo a livello federale. L'Italia e l'educazione degli ultimi 30-40 anni hanno cresciuto un elettorato che sbava per il primo razzista e ignorante pezzo di merda. Pensavano di potersi controllare, allora hanno creato un mostro e ne pagheranno tutti le conseguenze. Guarda cosa sta succedendo a livello federale. Guarda cosa sta succedendo a livello federale. Vogliamo sapere che cosa sta facendo Ubi. Guarda cosa sta succedendo a livello federale. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.